Start, 2, 1, boosted mission and lift off! E sentiremo un pochino quello che avrà da dirci riguardo alcune features molto interessanti, quali la costruzione di edifici, addirittura di villaggi e il commercio più o meno a grandi linee, come funziona. Ed eccoci qui, non siamo sul mio PC ovviamente, siamo in streaming da IBU90 come vi ho detto che ci parlerà di quello che ha scoperto e che ha approfondito di Soulash 2. Innanzitutto buongiorno a tutti, allora comincio col far vedere la nuovissima aggiunta che hanno fatto pochi giorni fa, che sono i filtri mappa e ci permette di filtrare appunto le zone scoperte oltre ai villaggi, quelle da i vari dungeon diciamo, per difficoltà e se sono già stati visitati e sbuotati oppure no. Oltre a carovane e vari personaggi che girano per la mappa e poi i nomi. Oltre a questo, prima cosa che volevo far vedere è come decidere di fondare un proprio campamento e qualche consiglio dopo qualche ora di gioco. Sì perché dal video che avevo fatto, avevo parlato forse anche di questa possibilità o forse no, non mi ricordo, però non avevamo visto nulla di quella features lì ed è possibile appunto fondare un proprio villaggio. Esatto, diventa quasi un Rimworld, un Dwarf Fortress con città su vari livelli da fondare, costruire. Quando si deve fondare una città bisogna innanzitutto scegliere la zona dove fondare e oltre al bioma che si vede in alto a sinistra ci sono le varie risorse raccoglibili, trovabili. Che sono quei punti di domanda. Sono questi punti di domanda, questi punti di domanda sono le varie risorse ma non ci dice quante, ad esempio in una che ho già esplorato ci fa vedere che abbiamo questo 2, questo 3 in parte ai vari metalli, significa che la zona supporta 2 miniere di rame, 3 miniere di stagno e così via. Quindi in una zona ignota sappiamo che ci sono solamente 6 tipologie diverse di risorse ma non quali e non quante, fino a quando non c'entriamo. Verranno scoperte le risorse solo quando verranno raccolte la prima volta. A meno che non si abbia il livello 20 credo di avventura. A livello 20 di avventura ci permette di scoprire le risorse spendendo del tempo e quindi cliccando sul punto di domanda ci fa apparire le risorse. Intanto passano i giorni, scende la fame, scende la seta perché effettivamente passa del tempo ma ci permette di scegliere una base consona al gioco che vogliamo fare. Potrebbe essere importante, come no, avere un fiume o una fonte d'acqua perché, come vedremo tra un attimo, per affondare la città e alzarla a livello 2 serve il pozzo, il pozzo d'acqua infinita. Quindi una volta che si è al pozzo il problema fiume non esiste più. Una volta scelta una zona che ci piace, vicino alla città che ci piace, basta entrare nella regione. E con il testino della casellina ci fa claim this region, ci fa reclamare questo quadriattino di ventaglia nostro. Costa 100 monete d'oro, ci chiede un nome. E ufficialmente questa casellina è nostra. Ora, nella sezione degli accampamenti si vede il nostro accampamento. Ce ne possono avere più di uno, non so se c'è un limite. E ci vengono mostrate, ci verranno mostrate le risorse dell'accampamento una volta che si era costruito. Per poter accettare dalla popolazione, l'accampamento deve essere di livello 2. Quindi livello 1 è solo terreno nostro, dove possiamo già costruire, mettere il nostro braule, metterci una casa, ma non possiamo ospitare persone. Questo è un punto un po' più avanzato della storia, mi sono fatto un salvataggio extra per farvi vedere l'ampliamento del villaggio e potrete notare che possiedo due diversi appezzamenti di terra. E vi spiego subito il perché. Intanto entro nella mia regione principale. Qua ho già costruito una mia casa provvisoria e una casa per dei futuri abitanti. Per poter alzare al livello 2 l'accampamento, ci chiedeva, che ora non me lo fa più vedere, un pozzo. Un pozzo, un centro città. Da quando si costruisce, si compra a livello 1 l'appezzamento, ci esce questa nuova parte di costruzione, oltre al vario crafting che si fa normalmente, e ci permette di costruire le varie aree adibite a zone della città. Appunto il centro città ci chiede un pozzo o un vecchio pozzo e 25 caselle. Una volta costruito questo, quando si entra in mappa, si entra sempre da qua. Mentre quando non c'è ancora il centro città, si entra da uno dei bordi in base a dove si arriva dalla mappa del mondo. Ho fatto due accampamenti, quindi questo è il mio principale, e l'altro la casella dopo, perché lo stash, l'inventario della zona è infinito, ma viene usato anche dai futuri abitanti. Quindi le mie risorse aree le ho buttate nell'altro accampamento che ha solo un fuoco, un letto e il baule, e non è condiviso con questo, che invece verrà utilizzato per i commerci della città, una volta che crescerà, che partiranno le caravane e tutto quanto. Cosa importante, una volta che cominciano ad arrivare dei nuovi abitanti, serve del cibo, e serve del cibo già pronto, e una buona quantità, perché mi è capitato in una partita vecchia di non riuscire a soddisfare il cibo, se ne sono andati, e mi hanno piazzato i figli, quindi i genitori, gli adulti se ne sono andati, mi sono rimasti i figli come abitanti, che continuano a consumare cibo, non muorono, non so se è per un bug, o perché non è previsto che muoriano i bambini, e quindi ho l'accampamento in costante perdita di cibo. Avendo quello, nessun altro vuole venire a abitare qua, perché mi trova l'accampamento in perdita. Quindi, cosa fondamentale, avere sempre il cibo in positivo, è una buona quantità. Una volta fatto il centro città, si possono assegnare le varie zone, come ad esempio un capanno di cacciatori, si trovano tutte le varie costituzioni possibili, e quelle sbloccabili ai prossimi livelli, in base alla zona. Questa zona aveva massimo 2 di carne, infatti posso fare massimo 2 zone di cacciatori. Ha le varie richieste, già pronte, basta trascinare, e la zona viene fatta. Adesso questa viene vista come zona attiva. Una volta che ci sarà una famiglia, si potrà assegnare questa costituzione alla famiglia e cominciare a farci lavorare. Qui sono nella mia partita vera, definitiva, quindi non nei salvataggi intermedi, e faccio vedere come vengono poi assegnate le varie famiglie alle costituzioni. In questo caso ho il capanno di cacciatori che si è appena visto, una fattoria e un taglialegna. Sono riuscito a reclutare tre famiglie da vari villaggi. Quindi tu vai nei villaggi e chiedi se vogliono venire. Sì, puoi chiedere solo a persone che non abbiano un'occupazione e si vede cliccando il shift sulle persone, occupation, in questo caso il cacciatore, ti dà non. A loro puoi chiedere se vogliono migrare nel tuo accampamento, gli dici quale, se n'hai più di uno, non sempre accettano. Una volta che hanno accettato, trovi le varie famiglie. Sì, qua poi purtroppo nello streaming non si vede la freccia del mouse, quindi cerco di capire. Allora, qua in basso a sinistra adesso ho le tre costituzioni libere di buildings perché ho appena disassegnato tutti. Si clicca sulla costituzione che vogliamo e poi sul nome della famiglia che vogliamo che prenda quel lavoro. Tipo, clicco sui bug guard e la campagna di cacciatori viene assegnata a questa famiglia. Poi si assegnano i singoli membri. possono essersi tutti o solo alcuni. I membri extra possono far parte dei difensori della guarnigione una volta che ci saranno campi di destramento avranno il loro edificio dedicato. Importante, come dicevo prima, il cibo prodotto e consumato bisogna essere abbastanza tranquilli in modo che la gente non se ne vada e ci pianti questi punti di domanda che sono i bambini che continuano a mangiare ovviamente ma non producono nulla. Con gli abitanti liberi, quindi non occupati, possono essere inviati come master delle carovane dando una destinazione e i prodotti che ci sono allo stash vengono visualizzati in verde se sono con prezzi buoni sono sotto prezzo si può scegliere in quale città ci dà quanto costo ha il viaggio e quanti sono i giorni di viaggio ovviamente selezionando posti diversi cambiano i prezzi e poi decidiamo sempre cliccando cosa mandare e loro partiranno per la carovana questa qua è già in viaggio ci mette 47 giorni l'altra partirà adesso. Un'altra cosa carina che ho scoperto è come acquistare risorse rare o che non si trovano normalmente dai mercanti ma che in realtà alcune civiltà hanno e ho trovato questo scamotaggio per riuscire a rifornirmi di risorse che mi avrebbero richiesto giorni in gioco di farming ad esempio vado nella città degli elfi che a mio parere sono bruttissime perché sono su alberi a molti livelli e si capisce ben poco ci può chiedere come ho già fatto vedere Indy nel trailer direzioni e trovare tipo il giardiniere i vari mercanti ci vengono evidenziati sulla mappa ci dicono anche a che piano quindi Z1 Z-1 e in queste città è molto comodo sapere che sono al piano di sopra e per esempio adesso vado dal ladder worker in base alla disponibilità della città fai trade goods e potremmo comprare cuorio di sperle di serpente vino mele topatti con i vari prezzi l'escamotage che ho trovato è ordinare un prodotto quindi faccio finta di volermi far fare una farete o un cappello e qua vedete tutte queste risorse che sono comprabili per farci costruire per farci craftare il materiale quindi tipo il fiore di loto a costo 4 un po' sovrapprezzo lo compro e diventa mio adesso io non faccio non voglio più comprare ma nell'inventario il fiore di loto ce l'ho e normalmente non me lo avrebbe venduto me l'ha venduto nella schermata del crafting perché è un materiale da crafting che avrebbe potuto inserirmi nella costruzione si trovano tanti materiali anche abbastanza difficili da recuperare in natura se non nei bauli ed è molto molto comodo ad esempio ci ho comprato da qualcuno il il polline per fare gli alberari ognuno dei dei lavoratori dei mercanti ha risorse diverse quindi conviene farli passare un po' tutti perché non tutti l'inventario non è condiviso ma ognuno i suoi come ultima cosa vediamo la costituzione di un edificio che in fin dei conti è puramente estetica perché per costruire un'area di lavoro ci richiede effettivamente i letti i rest in place gli alberi la fattoria ma non ci chiede dei muri i muri servono solamente per ordinare la città e presumibilmente in caso di difesa perché ci possono essere anche delle guerre a quanto ho letto non ho ancora sperimentato per fortuna nel mio villaggio e quindi ci faranno la difesa e poi è più carino da vedere nel crafting sempre con la lettera L troviamo tutte le ricette che abbiamo sbloccato sia di agricoltura che del crafting vero e proprio possiamo scegliere o ricercare e ad esempio il muro di legno ci fa scegliere anche con quale materiale in caso avessi più tipi di legno ci fa scegliere quale dei legni possiamo usare e semplicemente una volta selezionato si clicca e si piazza possono essere piazzati anche lontano e poi a piedi si raggiunge e vengono costruite le strutture per costruire serve un martello che va nell'inventario non per forza equipaggiato mentre per craftare tutte le ricette di crafting ci indicano cosa richiedono tipo questo vuole la landfill questo vuole la workbench e via dicendo basta essere vicini si può fare anche nelle città non nostre per costruire tipo la workbench lo smelter tutte le cose nella nostra città dobbiamo avere il livello di costruzione abbastanza alto e non è facile soprattutto in questa partita e in quella che ho fatto prima non è facile trovare gente che addestri che ti faccia alzare il livello quindi in questa partita sono partito come skill primaria come costruttore di modo da avere almeno il livello 20 sbloccato per vedere chi può addestrarci con la k nelle persone conosciute o trovando una persona e che ovviamente non c'è più nessuno trovando una persona in una ipotetica città gli si parla e uscire una scritta è stato aggiunto alla tua lista conoscenze e poi lo si ricerca con la k con tutte le conoscenze e si va in skills in skills vediamo le skills proprio di questo personaggio e può addestrarci fino al livello massimo tuo quindi questo personaggio ci può addestrare al massimo 16 in leadership e al massimo 16 in spade appunto trovare gente con costruzione mi è risultato molto difficile e quindi in questo partito ho deciso di partire con la costruzione come mia scelta una volta fatti i muri poi si possono fare i tetti i soffitti bisogna aver già imparato la ricetta delle scale che io non ho e dal piano di sopra si piazza il tetto come se fosse il pavimento del primo piano a solo funzione di effettivamente il pavimento del primo piano perché per adesso non abbiamo problemi di indoor outdoor esterno interno ci piove dentro ma non sente bonus e malus questo è un po' quanto in breve ho imparato nelle ultime ore di gioco se hai altre curiosità domande cose che mi sono sfuggite no 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 ecco ci tenevo appunto che comunicassi appunto tutte queste diciamo chiamiamo le possibilità che il gioco concede perché tutto questo non è stato possibile vederlo durante il gameplay di presentazione né durante il vlog dove comunque ne ho parlato molto velocemente e quindi niente io ti ringrazio dell'esperienza messa a disposizione spero comunque sia utile a tutti e vi invogli a provare questo bellissimo gioco io ti ringrazio grazie a te e alla prossima ciao 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 ciao